A quattro giorni dall'inizio del campionato Massimo Rastelli accoglierà oggi l'ultimo innesto di un calciomercato pirotecnico che può definirsi concluso almeno in entrata. Primo allenamento infatti oggi per Marco Armellino, centrocampista che arriva dal Modena, 34 anni con grande esperienza in Serie C e Serie B. Tre i campionati vinti per il mediano di Vico e Quenze che ha giocato in piazze importanti tra tutte Lecce, Monza e appunto Modena. Il saluto social non lascia spazio alle interpretazioni. Ad Maiora si legge con Armellino che già nel pomeriggio si metterà a disposizione di Rastelli e conoscerà nuovi compagni. Dovrà lavorare sodo per recuperare la condizione fisica non ottimale dovuta al mancato svolgimento del ritiro estivo. Sarà però una pedina preziosa in termini di qualità, personalità ed esperienza in uno spogliatoio già molto ricco sotto questi aspetti. Armellino sa come si vince e porterà in dote a Lavellino proprio il suo palmarès. Si chiude così quindi con Perinetti che ora dovrà concentrarsi sulle uscite di Rizzo, Casarini, Matera, Trotta e Maisto. Sarà lui a lasciare Lavellino con Davide Mazzocco che sarà inserito nella lista dei 24 e sarà aspettato per essere rimesso a posto e diventare l'arma in più. Ieri primo allenamento anche per Gabriele Gori, nuovo attaccante dei Lupi, che ha svolto la parte atletica ed una prima parte tattica per poi mettersi a riposo. Sarà una settimana di lavoro intenso con il ritorno al partenio Lombardi tra domani e giovedì per entrare nei dettagli di Avellino Latina.